I nostri cuori si uniscono, tutti in un battito magico. ...dallo stadio comunale Giovanni Paolo II di Nardò, dove sta per avere inizio la gara tra Nardò e Turris, valida per la quintultima giornata di questo campionato di Serie D. Emiliano, Gravina, Taranto ha perso con la Cavese in occasione dell'ultima gara interna, proprio due settimane fa. Turris che attraversa un buon momento di forma e reduce da cinque risultati utili. Nardò che prova a migliorare il suo ottavo piazzamento in classifica, la Turris invece che va alla ricerca di punti salvezza. La Turris nella tradizionale casacca granata, il Nardò da segnare la presenza di una ottantina di tifosi della Turris. Cavaliere all'inseguimento del pallone, Cavaliere in posizione di alla destra, prova a mettere in mezzo e c'è l'uscita a terra in presa sicura dell'estremo Corallino d'inverno. Di Piacente, pallone in aria e poi in mezza rovesciata col pallone che termina a lato, alla destra di Mirarco. C'è Nardò e Turris, palla in mezzo, c'è qualcuno dei difensori che respinge proprio sulla linea. Pontillo dalla bandierina, attenzione e c'è l'autocall, credo che sia stato autocall di Scipioni. Sul corner è intervenuto spizzando Scipioni tentando di liberare. Quel tocco ha beffato Mirarco. Vediamo cosa accadrà sugli sviluppi di questo calcio di punizione che si appresta a battere Bertacchi. Pallone in aria e colpo di testa con la sfera e termina a lato. È stato Cassano. Ora c'è Alessio Palmisano che entra in aria, mette in mezzo pallone che attraversa tutta l'area piccola. Buono questo lancio ora per Cavaliere, tiro di Cavaliere. Agodrin che interviene bene, Agodrin la palla poi svirgolata dal portiere in uscita d'inverno. Che sia stato Follera a colpire di testa. Poi toccherà naturalmente ad Antonio Romanello e alle sue riprese dare il risponso definitivo. Pensate gioca in attenzione, c'è Mirarco ora che riesce a sventare la minaccia. Agodrin, Prinari fermato in calcio d'angolo da caso. Il traversone, l'uscita avventata del portiere e poi pallone termina sul fondo. Per Alessandro Caporale, cross di Caporale, molto buono tagliato. Pallone però è molto vicino al portiere che interviene in verticale. Scipioni interviene su Guarracino, Liccardi. Guarracino tentativo da annoverare questo di Guarracino. Ora Caporale, altra parte Caporale sull'alto sinistro. E c'è il gol! Il gol! Il gol di Caporale, Michele! Il gol era un cross, però un po' di fortuna, insomma, Michele. Sì, in pratica un cross che è andato a colpire il palo interno alla sinistra del portiere d'Inverno per poi insaccarsi. Dunque al 44esimo minuto del secondo tempo Caporale riporta la situazione in parità. Questo risultato di parità è ormai inchiodato. Sarà difficile da smuovere. Infatti in questo istante giunge il fischio finale. Dunque in estremis il Nardò evita un nuovo capitombolo casalingo dopo quello di 15 giorni fa contro la Cavese. Sconfitta evitata grazie al gol di Caporale. Giunto al 44esimo. Un tiro cross col pallone che ha toccato il palo interno e poi è ricaduto oltre la linea bianca.